E ora che questo canale cambia un po', infatti basta guardarlo per vedere che ci sono degli elementi che vanno migliorati, infatti ho provato a seguire per l'ultimo anno e passa una pubblicazione settimanale e ho prodotto alcuni video di qualità che hanno anche avuto successo, ho prodotto alcuni video interessanti dove però non ho saputo sfruttare l'algoritmo e questo li ha lasciati un po' nel dimenticatoio, ma lo ammetto ho prodotto anche video che banalmente erano dei riempitivi, erano messi lì giusto per dire pubblico questa settimana, è evidente che questa strategia di YouTube che è sempre più difficile da interpretare, un po' competitivo potremmo dire, non funziona, quindi ho deciso di concentrarmi sul produrre video migliori, cosa vuol dire? che ridurrò un po' la frequenza di pubblicazione, invece di avere un video alla settimana fatto così così, punto ad avere magari un paio di video al mese fatti meglio. Ho in programma comunque alcuni video già interessanti, esempi relativi a Windows XP, mi sono state fatte delle proposte su Windows XP, gli aggiornamenti odierni e simili, ma punterò a parlarvi anche di storia dell'informatica e meme, cose che comunque abbiamo visto che interessano, ma in un modo migliore, magari anche con alcuni ospiti. Nel mentre, se proprio apprezzate la mia presenza, vi invito a iscrivervi al mio canale di linguistica, dove sto apprendendo alcune tecniche molto interessanti per quanto riguarda YouTube, infatti sta andando, interessante anche come cresce, e vi ringrazio per il follow e se non l'avete fatto, ovviamente mettetelo, mettete un mi piace e non vi dico di condividere questo video perché è banalmente un annuncio, ma seguite il canale per i prossimi video e se avete qualsiasi suggerimento lasciate un commento. Grazie.